Francesco Scanno come il campanilismo conferma e il campanilismo è anche che nessuno è profeta nella sua patria è stato annoverato a nulla e quindi qui lo ricordiamo. Allora con questo murales a lui dedicato gentilmente la proposta fatta dal gruppo Minifolk nelle persone di Vanno e Franca hanno voluto ricordarlo con qualcosa di indelebile si può dire perché finché durerà la casa. A te lo sanno il mezzo. È una persona che abbiamo nel cuore non solo quelli che ballano ma tutta la popolazione di Nule. Oltre a dedicargli il nostro Minifolk ci sentivamo ancora incompleti e volevamo proprio dedicare sia a Nule, ai familiari e a noi stessi del Minifolk un qualcosa di aggiuntivo. Questo qualcosa è il murales e ve lo presento. Un applauso. Ma rivolgiamo anche attraverso Maria al nostro carissimo Fiogaretta una preghiera che sgorga dal cuore di tutti. Se vogliamo unitevi alla mia preghiera. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Apre Nule, quindi il Minifolk è Fiogaretta di Nule soltanto. Apre Nule, quindi il Minifolk è Fiogaretta di Nule. Il Minifolk. Ricordi. Lei. Grazie. Grazie. いうこと. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti